Allora abbiamo la prima domanda che a scopo di registrazione ricopio qua dentro perché voi vedete la chat ma nella registrazione non rimane quindi ricopiamo qua le domande. C'è Matteo che ci chiede il concetto di backtracking. Allora ovviamente viene gestito in modo diverso ma lo scopo è lo stesso nel senso che quando noi siamo dentro la procedura ricorsiva quello che noi stiamo facendo a un certo punto è qualcosa di questo genere. For genera tutte le soluzioni a livello successivo e per ciascuna di queste soluzioni a livello di pseudocodice lo stiamo scrivendo creiamo una nuova parziale uguale la vecchia parziale soluzione parziale più un pezzo nuovo elemento nuovo e poi creiamo la procedura ricorsiva diciamo di cerca di nuovo parziale livello più uno ed eventuali altri parametri dipende dai casi. Questo è lo schema base. Questo schema base prevede che noi dalla variabile parziale precedente ne creiamo una nuova diversa per poter raggiungere un elemento nuovo senza modificare quella vecchia. Quindi nel caso in cui si ha un array list supponiamo noi dovremmo creare qualcosa del tipo scrivo qua sotto list di elemento quello che sia nuovo nuova parziale uguale innanzitutto devo ricopiare tutta quella vecchia quindi new array list in cui ricopio la vecchia parziale in cui ricopio la vecchia parziale e poi farei nuova parziale punto add elemento nuovo. Questo va bene a questo punto subito dopo faccio la chiamata ricorsiva cerca di nuovo parziale livello più uno. Nel caso però cosa succede? Che qui stiamo facendo un'operazione costosa perché stiamo prendendo la array list parziale che magari contiene 100 elementi e lo stiamo duplicando in un nuovo array, in una nuova lista all'interno del quale andiamo a ricopiare tutti gli elementi e poi aggiungiamo questo nuovo. Per risparmiare questo tempo di copia dell'array che poi ricordiamoci al livello del ricorsione successivo viene di nuovo ricopiato in un'altra nuova nuova e al livello ancora sotto viene ancora ricopiato quindi stiamo spendendo moltissimo tempo a ricopiare. Allora quello che facciamo spesso è semplicemente aggiungere il nuovo elemento direttamente alla parziale che avevamo già, quella vecchia e poi andiamo giù di ricorsione passando sempre quella vecchia. Quindi per risparmiare il tempo di copiare un array in un array nuovo vado a modificare l'array di partenza. Così facendo però attenzione che sto modificando questa variabile parziale, questa vecchia parziale, quella che prima ho chiamato qua vecchia parziale, lo sto modificando e quindi nelle varie iterazioni del ciclo for questo pseudocodice presuppone che la soluzione parziale vecchia rimanga sempre la stessa perché io provo ad aggiungere un elemento nuovo ogni volta diverso ma alla stessa vecchia soluzione parziale. Se io faccio così sto modificando questa vecchia soluzione parziale. Allora devo rimettere tutto a posto dopo che l'ho aggiunto. Quindi il backtracking fa così, parziale.remove, in questo caso se è una lista basterà togliere l'ultimo elemento visto che l'abbiamo aggiunto in fondo, quindi parziale.size-1. Quindi questo qua rimette, ripristina la lista parziale esattamente come era prima che ci avessimo aggiunto l'elemento perché noi abbiamo fatto questa, diciamo così, piccola ottimizzazione, diciamo una porcata minima che ci serve per ragioni di prestazioni, di modificare una variabile anche se non avremmo dovuto, anche se, diciamo così, dal punto di vista dell'algoritmo, del pseudocodice, questa variabile e questa sono diverse. Quindi devo chiamare la ricorsione con una variabile diversa. Per evitare il problema modifico la variabile iniziale e quindi devo rimetterla a posto dopo. Quindi questo è il punto di partenza. Nel caso in cui, nella nostra ricorsione, stiamo usando una rappresentazione, ad esempio, immutabile come stringhe, allora la stringa, essendo immutabile, non posso usare questo metodo di aggiungere un carattere in fondo alla stringa, ma quando facessi anche string a uguale a più x, l'oggetto a precedente e l'oggetto a successivo sono due oggetti diversi. Quindi io sto creando un nuovo oggetto che è uguale alla concatenazione di questi due oggetti precedenti, lo modifico in un'altra parte, ma il riferimento a questo oggetto a precedente non cambia, non viene modificato. Ok? Poi magari non sono così marochista, lo scriverò così, lo chiamerò A2 o B per evidenziare il fatto che è una stringa diversa. Ma in questo caso, lavorando con le stringhe, non è possibile modificare direttamente la soluzione parziale, ma devo sempre comunque creare una nuova, perché? Perché le stringhe sono immutabili. Oppure, in altri casi, magari la soluzione parziale è rappresentata non brutalmente con una lista, ma con un altro tipo di oggetto più complesso, e allora l'unico modo è veramente creare uno nuovo. Quindi, quando creo un nuovo oggetto, o perché lo decido, come in questo caso qua con l'RLE, non è sbagliato, si può benissimo fare, o perché l'oggetto di partenza è immutabile, o perché l'oggetto di partenza è complesso e quindi non si può semplicemente modificare e ripristinare, allora va benissimo questa soluzione. Non serve il backtracking, perché quando scendo, ogni procedura lavora con oggetti suoi, privati, creati apposta per lei. Se invece modifico la soluzione parziale mentre scendo, e quindi a livello 7, livello 8, sto modificando la stessa struttura dati, la stessa lista su cui lavorava già a livello 1, livello 2, quindi praticamente sto sporcando la struttura dati dei livelli precedenti, va bene, lo posso fare, purché dopo che l'ho sporcata la rimetto a posto. Devo garantire che all'uscita del ciclo for, e in realtà anche ad ogni iterazione del ciclo for, la variabile, che qua chiamiamo sempre parziale, non sia cambiata. Quindi se la cambio, la devo rimettere a posto. Questo è il concetto del backtracking. Quindi mi preparo per tornare indietro, quindi rimetto a posto le cose come erano prima. Spero che abbia un pochino aiutato a chiarire. Quindi non è una cosa complicata, semplicemente conseguenza di non voler duplicare una variabile quando possiamo evitarlo. L'altra domanda invece è da Marco, che sembra un problema più specifico legato a IDSQL, che mi sembra alquanto strano. Nel senso che magari non me le fa vedere, ma lui le legge. Proviamo un po' a farlo insieme, per capire se riusciamo a replicare il problema. Allora, mark.sql era nel laboratorio 4, vero? Vediamo un po' di prenderlo, mostralo. System Explorer. No, iscritti corsi nel laboratorio 3. Laboratorio 5, grazie. No, non l'avevo usato ancora precedente. Ah no, perché prima avevo usato i file test, scusatemi. Grazie. Ok, eccolo qua, trovato, mark.sql. Allora, vediamo subito cosa succede. File. Carica file SQL. Qui abbiamo due opzioni in IDSQL. Carica file e esegui file. La differenza è che carica file e carica il file SQL all'interno di una finestra di query, come questa. e quindi ce lo troveremo, ce lo troveremo tutto qua. Se invece esegui, lo esegui senza caricarlo, senza aprirlo. Allora, prendiamo Eclipse, CDP 2020, laboratorio 5, mark. Supponiamo, carica un file nell'editor, così lo vediamo. Questo qua è un file che è stato caricato, ha una sua lunghezza di 700.000 linee di codice, però quando io faccio run, lui lavora un pochino. Questo errore compare sempre, cioè sul discorso dell'inno di B non ha l'opzione giusta, perché le istruzioni che MySQL ci mette quando esporta un file SQL contengono dei comandi che poi lui non riconosce quando le rimporta. Quindi questi errori qua sono normali, purtroppo ce li troviamo sempre. Dopodiché, se noi andiamo a vedere la tabella dizionario, parola, e andiamo a vedere i dati, lui mi dice che sono limitate a 1000, quelle che mi fa vedere, però in realtà le posso vedere, possono esserci tutte, nel senso che se io facessi, le facessi ordinare in ordine inverso, vedete che ci sono tutte fino a 700.000 e più. Io adesso non so tu dove abbia visto questo 100.000, scusami. quando mi dici, non vede quelle dopo. Se io posso fare una select, select asterisco from parola, where id maggiore di 100.000 e le vedo. Quindi può essere solo un problema di visualizzazione, perché comunque la finestra di ID non ti fa vedere tutto, perché sarebbero troppi. Quindi se io facessi select asterisco from parola, probabilmente mi dice che sono 700.000, vediamo un po', sì, me le fa vedere tutte. Quindi anche qua non c'è... non riesco a riprodurre il problema che mi hai descritto. Sicuramente quando vedi i dati, lui te lo tronca, ma te lo tronca a 1.000. Comparola una scritta in alto, limitata a 100.000, non la trova nulla. una scritta in alto, qua, qui dove c'è scritto limitate a 1.000. Questo mi è nuovo. Guarda, allora questo magari lo... mi devi mandare qualche informazione in più, se vuoi, se in questo momento ce l'hai aperto, potresti provare a condividere tu lo schermo e farci vedere. Quindi vediamo esattamente cosa hai tu o eventualmente provo a prendere controllo. se te la senti, Marco, riesci a condividere lo schermo? buon. Ci fai sapere qualcosa? Ok, va bene. Nel frattempo facci sapere quando sei pronto, così vediamo il problema. Verifica anche la versione che ha di ID che non sia troppo vecchia, ma questi problemi non li abbiamo aiuti neanche con le versioni precedenti. Se ci sono altri temi sollevati da altri, mentre Marco sta cercando di riprodurre la situazione. Grazie. Allora, vediamo la domanda di Matteo che mi chiede. Andiamo anche qua, copiamola qui, la vediamo tutti. Riguardo alla gestione della complessità, abbiamo visto che l'andamento fattoriale della soluzione anagrammi crea problemi di tempo nel calco della soluzione. In questi casi ha senso mettere una sorta di limite massimo per evitare un blocco indesiderato del programma? Sì, ovviamente non stiamo risolvendo il problema. Questo della complessità, la settimana prossima l'entriamo un pochino più nel dettaglio per capire almeno come analizzarlo, questo problema della complessità. Però è un muro, è un blocco, nel senso che certi tipi di problemi con un approccio risolutivo esatto non sono risolubili, punto e basta. Quindi se io devo calcolare, appunto, come facevamo nella videolezione, un anagramma di una parola troppo lunga, so che sono miliardi o migliaia di miliardi di soluzioni e per veloce che sia a generare una singola soluzione, generare tutte porta troppo tempo. Se veramente ho bisogno di generarle tutte, non ci sono scorciatoie, fine. Cioè ci vuole il tempo che ci vuole e se il tempo è troppo vuol dire che quel problema lì oggi non lo risolviamo, oggi nel senso con le tecnologie di oggi, ma neanche quelle tra dieci anni, tutto sommato. Se invece, diciamo così, ci sono altre due possibilità. Una possibilità è quella di dire, io do un risultato approssimato. Ok, non te di genero tutte, ma te di genero solamente un milione. Accontentati. Allora a questo punto va benissimo, io metto un contatore, quando a un certo punto questo contatore supera un milione, esco dalle procedure ricorsive, quindi ciascuna procedura farà return, 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 se questo contatore è maggiore di un milione, ed esce dalla ricorsione anticipatamente. Questo si può sicuramente fare. Oppure, come dici tu, metto un vincolo a priori. Cioè, ad esempio, come dicevi tu, sulla lunghezza delle parole. È difficile da stabilire questo vincolo, perché ovviamente a seconda del, non so, quello dell'anagramma è molto semplice, non come problema, però potrebbero esserci dei problemi, delle istanze di problemi in cui magari dieci va bene e undici è troppo, altre istanze in cui magari treci, quattordici vanno bene. Quindi capire esattamente qual è questo limite dipende poi dal computer dell'utente, non è sempre semplice capire qual è un limite ragionevole. Quindi forse è meglio mettere, che ne so, un limite sul numero di soluzioni oppure il limite sul tempo di esecuzione. Dopo, che ne so, dopo 30 minuti, si ferma comunque e restituisce le soluzioni che ha trovato fino a quel momento. E questo è nel caso in cui, diciamo così, dobbiamo generare tantissime soluzioni. Noi siamo fortunati, in questo caso degli anagrammi, perché tutto sommato stiamo sfornando soluzioni a un ritmo elevatissimo. E cosa capita se dopo 30 minuti o se dopo un milione di tentativi non ho ancora trovato nulla? Eh, niente, mi fermo, finisce lì, dico, scusatemi, nel tempo, nel risorse che avevo a disposizione non ho potuto trovare nulla. Diverso è se noi stiamo cercando poche soluzioni in un mare di alternative possibili. Cioè, il discorso dell'anagramma, se io devo generare tutte le permutazioni possibili, allora è quel numero. Se invece devo generare solamente le parole di senso compiuto, quindi quelle presenti in un dizionario, e beh, allora ho un'arma in più, perché io so che magari gli anagrammi di quella parola saranno 10, saranno 20, non lo so. Però sono un numero finito, relativamente gestibile. Allora devo evitare, cercare di evitare, di esplorare le alternative inutili. Quindi, ho accennato qualcosa nella video-lezione a come si può fare, ma di fatto nella generazione delle soluzioni quindi non decido di non provarle tutte, ma solamente quelle promettenti. E quindi, come dicevamo, nel caso degli anagrammi, appunto, vado a vedere se la parziale è fatta di due lettere e queste due lettere non compaiono mai come lettere iniziali di una parola del dizionario, è inutile che io vada ad aggiungerne una terza. Allora, in questo caso, riesco a avere un risparmio esponenziale del tempo di esecuzione, che a volte magari riesce a permettermi di gestire un problema perché non genera, la stragrande maggioranza delle soluzioni non viene generata. Quindi qua sta, in questo giochino qua, sta l'intelligenza dell'algoritmo. L'algoritmo ricorsivo di per sé è un algoritmo brutale, le prova tutte. Se mi basta, va bene così. Se non mi basta, nel senso che l'algoritmo nella sua brutalità richiede troppo tempo, allora devo intervenire con un po' di intelligenza, ad esempio andando a filtrare quali sono i rami della soluzione in cui lui va a cercare. Quindi questo sarà quando conosciamo la base della ricorsione, poi cominceremo a lavorare su riuscire a cercare di ottimizzarla, di migliorarla. Però è un problema che in generale non c'è la ricetta risolutiva. Quindi va a darsi dei limiti in qualche modo. Poi, a questo punto passo alla domanda successiva, in cui mi chiedono che se in una query voglio selezionare solamente un certo campo, è necessario un while che lega tutti i campi, o possiamo richiamare solamente quello desiderato? No, sono due cose diverse, attenzione. Quando io ho il result set, mi sposta la riga. Non la colonna, ok? Quindi da una riga alla riga successiva, alla riga successiva e così via. Se a me interessa solamente un campo, dovrò comunque... Ah sì, sì, in realtà leggo meglio la domanda. Non sono obbligato, quando sono sulla riga, leggerò solamente i campi che mi interessano. che mi interessano. Quindi in pratica, che ne so, nel caso delle parole, se volessi stampare le parole del dizionario, scriverei while.set.next, che ne so, stamperei system.out.println, solamente prendiamo id, nome e non id, perché magari di non mi interessa. E allora sarà semplicemente realset.getString id, nome. Non leggo id perché non mi serve, finisce lì. Quindi questo, se mi servono solamente un campo, solo un insieme di campi. diverso è il ragionamento che farei se fosse all'interno del DAO. In una classe DAO, devo chiedermi, forse è meglio, costruire comunque un oggetto completo. Quindi in questo caso, qui ho fatto una query in cui stampavo un nome. Se invece volessi avere un metodo più di uso generale, allora, quindi che può essere usato in diversi contesti, allora magari non conviene fare un metodo che legge solamente il primo campo, poi l'altro metodo che legge solamente il terzo e il quarto. Allora facciamo un metodo che legga tutti i campi e poi ovviamente chi usa, chi userà questo oggetto e sceglierà ciò che gli interessa. Quindi a questo punto avrò while rlset.next avrò crea un nuovo oggetto new dizionario voce dizionario prendendo l'id rlset.getint dell'id e poi rlset.getstring di nome e questo qua lo aggiungerò all'innovazione a struttura dati, non so, rl.add di questa cosa qua. E in questo modo questo metodo estrae tutti i dati che servono per quel tipo di query. Poi sarà chi utilizza questo result, questa lista che stiamo creando che magari guardano solamente i nomi. Però magari un altro metodo del modello che richiamo a questo stesso metodo del DAO invece ha bisogno anche dell'id. Quindi ovviamente è un trade-off. Se sono sicuro che quel campo mi servirà solamente quello ignoro gli altri. Però se sto lavorando oggetti all'interno di un DAO tanto vale a fare uno sforzettino in più per già che la query l'ho fatta per restare tutta l'informazione che mi serve e così evito di dover fare due, tre, quattro metodi diversi che definiscono solamente nei campi che mi interessano. Questa è un pochino la la dualità. Come sempre è un compromesso qua non abbiamo mai regole esatte. C'è la scorsatoia e c'è mi serve questo faccio questo invece c'è il ragionamento un pochino più a lungo termine e dico già che lo sto facendo cerco di farlo in modo che sia più riusabile. Ok. Nel frattempo abbiamo novità da Marco. era un errore d'impro ora sembra di essersi risolto ci dice Marco sulla chat quindi va bene nel senso che non era un problema di ID per fortuna quindi poteva essere che magari il file non fosse stato scaricato completamente quindi abbia letto solamente una parte del file ha cominciato a leggerlo prima di finire di scaricarlo o altre cose problemi di input-output di questo genere. Ok. Mi rincuora perché era una situazione che non mi era mai successo e sarebbe stata abbastanza strana. Ok. Altre domande? Ok. 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 Grazie a tutti. Non vedo altre domande da parte vostra. Avrei la tentazione di concludere. Se non ci sono altre richieste. Vi ricordo solo che in questa settimana in cui non ci saranno le lezioni, le video chat e il lavoratorio, noi come tutti voi siamo chiusi in casa, quindi sicuramente riusciamo anche a rispondere alle vostre domande. Quindi se avete bisogno ci potete contattare, direi preferibilmente su Telegram perché magari una domanda di qualcuno può essere utile anche ad altri e poi eventualmente si continua privatamente se si vede che poi è un problema molto specifico di qualcuno. L'altra cosa che appunto mi raccomando è di fare veramente gli esercizi e sei sicuri che tutto funzioni sul vostro computer perché come dicevamo è molto probabile che poi all'esame dovrete usare la vostra macchina. Quindi che non ci siano problemi pratici di installazione, versioni e clips che non gira eccetera eccetera. Oppure il GitHub, non mi ricordo bene come si fa a fare il commit o cose di questo genere che non capiscono poi nel momento dell'esame. Quindi più del solito è necessario che voi curiate il fatto che sul vostro computer funzioni tutto correttamente. Se avete dei problemi fatelo presente così magari possiamo aiutare a risolverveli in tempo prima che ci avvicini troppo all'esame. Noi da tre settimane in avanti, quindi quando cominceremo a fare i grafi, in pratica cominceremo da allora già a fare un po' di esercizi tratti dai temi d'esame. Inizialmente un pochino semplificati e poi via via sempre più simili. Quindi proveremo già anche proprio a prendere, anziché inventarsi gli esercizi in laboratorio o durante le lezioni, inventarsi gli esercizi semplificati. Quindi peschiamo quelli degli esami precedenti così cominciamo anche a renderci conto di quello che è il tipo di lavoro che dovete fare poi, il tipo di difficoltà, di complessità che dovete fare l'esame. Quindi quando, sicuramente la ricorsione è già uno dei temi in cui c'è nella metà dei temi d'esame, metà sono sulla ricorsione, metà sono sulle simulazioni che sarà l'ultimo argomento che faremo. In tutti però c'è sempre la gestione di un grafo e i grafi invece inizieremo come prossimo argomento appena avremo concluso la ricorsione. Questo lo dico perché c'è sempre, come spesso succede in molti corsi, un'impennata verso la fine. Quindi a un certo punto le cose sono relativamente facili, poi da un certo punto in avanti cominciamo a mettere insieme tutto e la difficoltà cresce moltissimo. O meno quella percepita cresce moltissimo. Quindi preparatevi, diciamo così, a conoscere bene questa parte perché poi aggiungeremo dei pezzi e tutto si combinerà insieme. E quindi proviamo già ad anticipare questo momento in cui mettiamo insieme tutto facendo già qualche primo esercito d'esame. Quindi riposatevi bene perché al ritorno delle vacanze di Pasqua aumenteremo un pochino, non dico il ritmo ma la complessità perché avremo varie cose che si mettano insieme. Con questo direi che non essendo comparse altre domande non vi trattengo troppo collegati. Come sempre vi ringrazio per la compagnia che ci facciamo tutte le settimane. Cercate di riposarvi, godere un pochino di questa pausa dalle lezioni in questa settimana. Per qualunque esigenza noi ci siamo e altrimenti ci rivediamo tra 15 giorni esatti. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti.